In game, sono in gay, sono in game, non sono gay, sono in game... Andazzola! Cattivo, Zepp, cattivo, perché non vuoi bene in gay? Perché tanto usaccio che tu hai detto un c***o voglio una tua tua cimina? Salve a tutti, salve a tutti! Aspettate, ripeti, ripeti! Che cosa, che cosa? Ripeti! No, 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 succede un casino qui! Allora, lo devi dire, lo devi dire! Lo devi dire, maledetto! Zepp, ti amo, se cambi dei suoi in grado di chiamare! Dica a chi sotto dei discepoli di Zepp! Perché lo diche? Dai, tanto lo sappiamo che qualche volta fai pensieri strani e con una mano, una mano, tafic, in due col... Non c'è niente, non c'è niente da dire, cioè, se a qualcuno gli piace mettere il dito nel c***o, non è? Gli piace mettere il dito nel c***o? Zepp, dai, c***o! Dai, a nostra difesa posso dire una cosa, anche a Wolf gli piace il dito nel c***o. Vabbè, che è pezzata, è una monopalla, pure. Con lo senso di... Questa, chi ci giri il caffè? Io lo squallore è unico. Ok, hai selezionato una missione principale, sì? Tanto lo sai che io vado a piedi. Ehm, stavolta ce l'ho andato pure io, io sono patito per i fitness. Io sono un fraccomodo e vedo una macchina e me la prendo. Comunque, devo dire una cosa. Io avevo letto il 100... Era alto. No, 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 il 1.400. Comunque, devo dire una cosa. Con Wolf, che non viaggia con me in macchina. Ci sono meno danni e meno sbirri, meno qualcuno che ci odia. Anche se pure io sono un patito dell'investi... Dell'investimento. Dell'invidia! No, mi sono buttato dell'invidia. Sei patito per l'invidia, per la fisica! Invidia e fisica. Cosa vuoi di più della vita? Un lucano! Cane! Un nero braccio! Un nero gay! Come piace a qualcuno su YouTube! Mamma mia! Salve! Posso fare nomi? Eh, vai, prego, prego. A me lo devi dire. No, 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 dai, dai, dai. Che dopo il sindacato gay! Sai com'è? Già il mio caro amico... Ma non è che noi stiamo scherzando adesso, ragazzi... Capite bene? Non stiamo scherzando i gay. Stiamo scherzando a una persona che ce l'ha contro i gay. Sennò per me non hanno problemi, facessero quello che vogliono i gay. Ma guarda se ci vogliono chiamare ogni tanto! Wolfo, gli piace tanto toccarsi un'altra palla rimasta nel suo corpo. Sono gusti sono, non è che c'è qualche cosa da dire. Ok, livello 6. Abbiamo fatto un livello 6 come niente. Cos'è? Ok. Allora, io sono arrivato. Eh, io sono quasi arrivato. Tanto non c'è scritto nemmeno alla distanza ormai. Eh, mi vedi? Mi sa che dobbiamo andare sul palazzo. Eh, dove sto andando io? Ok. Apri la porta, vai. Apriamo insieme, vai. Ti aspetto. Ecco chi apri la porta. Oh, hai la super velocità, ma hai la... Super velocità, salti incredibili. E poi... Eh, mo? Ah, vai, vai. Ma... Ah, si è aperto la porta di qua. Oh, buon lavoro. Ah, il tuo è tutto scriptato. Eh, sì. Io passo attraverso la porta. Dicici che io sono in un momento mistico. In un momento mistico. Infiloci il pene, vedi se io passo dall'altra parte. Ok, perfetto. Vedo tante cose, mi stanno sanguinando gli occhi. Esco. Non si può, mi sa che non si può saltare. No, non si può saltare, questo è un bel dito al culo per te, motore mio. Cioè, che ho l... Oh, lì. Raga, ho cercato di farvi il più somigliente possibile, ma perdonatemi se non sono proprio un esperto. Ho il coglione al vento e mi preoccupa quella melma che l'ho addosso. Questi cazzo. Eh, questo è sempre tipo stile Matrix. No, questo mi sembra quando eravamo nudi e ubriachi a Saint-Cro. Sì, anche Saint-Cro. Vieni qui. Ah, approfittiamo. Vieni qui, non è che tu sei nero. E si sente i neri. Che hanno una cosa particolare. Non è che ci dice dove dobbiamo andare. Mi sento un cezzo di... Diritto, bello. Ecco qua. Perché non ti fai... Ah, da notare una cosa, ragazzi, in questo senso io sono tutto tatuato. Eh, vomitiamo. Eh, eh, che schifo. Grazie per la censura, perché se no guarda ti guardavo l'intestino, dalla posizione che è. Cazzo, non mi sono scordato di fare... No, ci stiamo preparando per... Apoca... Skypocalypse. Ma... Vomito verde, io. Vomiti verde, è normale. Che cosa mi avranno fatto? Cosa mi avranno schizzato dentro di me? Gli alieni. Guarda com'è. Poi questa musica qui ti mette una paura, un'ansia. Sì, ma... Ah, devo aspettare te, se tu lo script del gioco... Io non ho capito niente. Sì, sei tu lo script del gioco. Perfetto. Che cosa stai facendo? Oh, 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 oh. Non ti picco. Guarda come fa il figo. Guarda come fa il figo. Poi tutto è ricoperto di mer... Di merda là. Ah, eh, perché invece la faccia è normale. Non voglio sapere niente, è ora. Cioè, se ti colpo si è rialzato. Armi, solo questa abbiamo. Sì, sì, ci sono. Qua azione è stealth. Vogliamo dobbiamo fare. Grande di nuovo, ringrazio alla censura perché... Il buco del suolo davvero mi facciamo riuscire. Ma io a te, e tu a sinistra. Vabbè, l'hai preso con le... No, mi fa schifo sto cos... Che cosa è? Ma adesso che tira marshmallow. Ti rimarcio meglio. Eh, ma fai. Ma per davvero. OPLALAAA. Dai che la faccio pure io, dai. Io ho le palle, perfetta questa. Ottimo, dai. OPLALAA. Finito. C'è uno... C'è uno che parla tutto bubba. No, alla catarazza. Ma non ho più i poteri. Non abbiamo più i poteri. L'ho notato... Ho provato poi io il salto. Il salto. Ok. Cazzo! Una volta ogni tanto passa sui cadaveri perché ti danno le munizioni. Sì, 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 ho capito, ho capito. Vaffa qui, noi non abbiamo il supersalto, è vero. Smettila di sparare, alieno di merda. A proposito, ma tu stai giocando con mouse e tastiera o con il gamepad? Mouse e tastiera. Ah, parla del gamepad che ti sei comprato. Eh, c'è... Ah, no, che te lo sei comprato. Aspetta, no, l'abbiamo già detto che te lo sei comprato, mi fa il gamepad. Come ti trovi? Ah, guarda, eh... Lo sai che... È, è perfetto. È quello lì 100% compatibile, cioè... Cioè, il... Quello della 360... Ehm... Con filo. Ehm... Niente... Come cazzo vi posso dire? È 100% compatibile perché... È proprio lì che sullo scatolo c'è scritto... Xbox Windows. Sì, sì, sì... E quindi... Più compatibile... Ah, non abbiamo nemmeno il potere del super congelante. Più... Più compatibile di così si muore. Quindi... L'hanno fatto apposta. Per chi vuole giocare... A... Cos... Sul computer. È buono! Io mi sono abituato... Mi sono dovuto abituare un pochino... Con... Perché ero abituato alla Playstation, quindi... Gli analogici, ma... È questione proprio... Ehm... Ritirata... Mi faccio una ritirata strategica... È questione proprio di due... Due secondi. Che cosa è successo? Ce l'abbiamo fatta, perfetto. E questo... Ti può saltare questo video? Boh, sì! Sì, salta, salta, questo lo puoi saltare. Ehm... È che ti stavo dicendo? No, mi ci trovo proprio, proprio bene. Ho finito... Ah, Guido io mi sa... No, Guido tu. Ah, io sparo, però. Ah, sì, io Guido e tu spari, perfetto. Ah, abbiamo fatto la cosa migliore. Comunque... È la cosa migliore per noi. Te stesso. Allora... No, ma... Senti la musica! Senti la musica! No! Oddio! Loni! Oh, dì! Oh, dì! Hai diventato il mio gioco. Quaiso! Oh, dì, sì, 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 sì. Tum, 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 tum! Bellissima! Mince! Vaffanculo, ho sbattuto. Ma c'è la musica ancora! No, 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 no! Facciamo questa missione, subito, subito! Co... Sì, sì, ma dobbiamo rifare per questa, per la missione! No, 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 muove, muove! Il tuo amico è stato ucciso, mi ha detto, e quindi non sono stato io. Ma io... Io ho sbattuto. La musica, la musica! Voglio la... La stagiatrice avvira più rapidamente. Ah! Allora, posso... Ma perché questa canzone? Eh, il testo, devi capire, devi sentire. E poi, guarda, è bellissima! Deve sentire il testo e soprattutto Saintero4 si basa anche sui video che sono stati creati musicalmente. C'hai ragione. C'hai ragione, come? Cazzo, è io che pensavo che eri un povero youtuber sfigato. Ma la stagione! Minchia, qua è difficile, qua è difficile. Qua è difficile la fatta. Perfetto. Che tanto ballo, tu fai il lavoro spazio. Sì, quello pure io un pochino. Yeah! Ma io... Ma io mi riferisco. Ero cantistino quando è uscito questa canzone qua. 1994, se non erro. Se non erro, ragazzi, in caso, correggetemi. Visto che siete molto, molto dirti sui commenti. Complimenti per i pollici in giù. Sembra quasi che vi cacciamo un organo se vi chiediamo un pollice in giù. Complimenti. Stavolta ci dote un pochino di informazioni su questa musica che sentite che è stupenda. Musica, questa qui si trova nelle compilation Musica e Dance anni 90. Che ti rendi con... Avevo la cassettina. Che sono bella. Guardate, mi ha fatto appassionare della Musica e Dance anni 90. Lo doveva... Oh, cazzo. Musica e Dance anni 90? Dici, dici. Mi ha fatto appassionare della Musica e Dance anni 90. Che a me non me ne fregava niente perché a me piace la... La... Disco pesante. Che cos'è questa grafica di Mario? Disco pesante è un ex mia ragazza che gli piaceva la Dance anni 90. E' veramente bello. Mi ha fatto appassionare della Dance anni 90 in una maniera... E' molto bella. Infatti da un'ora io la sento ancora e mi piace tantissimo. Ok, saltiamo il video. Si può saltare. E' bellissima questa missione. E che ti avevo detto... Come... Allora, andatevi a guardare la puntata 0 di Saintyro 4. E ho parlato e che ho citato sulle canzoni che sono fatte veramente. Il comparto audio è veramente... Il comparto audio musicale, le soundtrack sono veramente stupende. Signori, missione finita. Quello lì a fianco a me... No, se no facciamo la stessa figura di... La stessa figura del video precedente. Allora, io sono Vicious17. Quello lì, eh. Wolf, Wolf. Ti saluto pedifico. What is love? Ciao, ciao.